Ti ho disegnata. Hai detto che in quella scuola hai ritrovato il tuo fratellino? Sì. Vi ho fatti arrivare io tutti e due, devi pagare. Mia madre ne ha bisogno. Dai quei cento euro a Justine. Tranquilla, sono dieci. Non devi fare lo spacciatore e lasciare la scuola. Le giuro che mia sorella, senza di lei sarei morto. Perché io ho i documenti e lei non può averli? Ogni volta che dici voglio, ti prendi uno di questi. L'Okita! Sei dolce, Tori. Non c'è nessuno come te al mondo. Il prie del 75 è attribuito a Jean-Pierre e Luc Dardenne. Tori e L'Okita. 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 Tori e L'Okita.